Battipagliese a valanca con la Virtus 8 a 0 domenica scorsa ma ora attente un impegno sulla carta facile almeno per il fattore campo però ricorda la trasferta a Casalbono dove la Battipagliese per un mero disaccordo tecnico insomma non è riuscita a presentarsi Quali sentimenti porta questa gara con il Sassano Fiorello Lerro? Allora abbiamo archiviato la partita nel derby con la Virtus facendo una buona gara e adesso ci stiamo preparando questa nuova partita importante perché loro sono in zona playoff e quindi chiaramente ci terranno a fare risultato i ricordi sono amari chiaramente per un episodio per quel famoso disguido siamo motivatissimi perché vogliamo cercare di fare risultato sia per la classifica che ci vede capolista e sia soprattutto per questo disguido tecnico che chiaramente ci ha lasciati amareggiati Vogliamo dire quando si disputerà la partita? La partita si disputerà sabato al campo Sant'Anna alle ore 15 quindi ancora una volta facciamo un appello ai sportivi battipagliesi di seguirci in massa per incoraggiarci perché ne abbiamo effettivamente un gran bisogno E per quanto riguarda la squadra ci sarà qualche defezione? No al momento no siamo tutti quanti arruolabili quindi non stiamo patendo fortunatamente infortuni non ci sono squalificati quindi dovremmo essere tutti presenti per cercare di fare nostra la posta in palio Non vi resta altro che vincere allora? Sì sì no ma infatti il nostro credo dall'inizio dell'anno è quello di vincere tutte le partite possibili quante più partite possibili Chiaramente questa di sabato ci deve vedere ancora una volta vincitori perché se vogliamo aspirare a questo sogno di vincere il campionato